Musica Bella ragazzi bentornati sul mio canale Oggi siamo qui Oggi siamo qui con un nuovo pack opening E forse anche l'ultimo per cercare Questi toti, maledetti toti Allora intanto abbiamo Il pacchetto gratis Cioè gratis, quello del lunedì Ovviamente io quando ho fatto Il coso dei cosi Avete capito Porca Valero, non male Nel pack quello lì Allora intanto riscattiamo Inigo Martinez Che non è male raga Mille crediti Porca Valero Possiamo anche lasciarlo lì E quindi scartiamo tutto Ha fatto i mille crediti Ragazzi Pack della verità Il pack da cento mila crediti Apriamolo Siete pronti? Spaccate il like Go Chiudo gli occhi Oh mio dio ragazzi Chiudo gli occhi Chiudo gli occhi Ma chi sono questi? 100k buttati Asamoah Via Diego Disti Tardel Harvahal Ciorluc Guzman Mangalà Pabon Laporte Gerard Cajal E Ezra Rodriguez Ragazzi Questo è un brutto pack Sinceramente è un brutto pack Consiglio solo Mangalà Gli altri Direi di scartarli Tutti Mamma mia Che brutto pack Vabbè Tranquilli Perché Non è finita qui Quindi facciamo un trucchetto Ragazzi Allora andiamo qua Mercato Negozio Mercato Negozio 100k Si stanno a prendere ragazzi 3,2,1 Olè Stavolta lo guardiamo Voglio la reaction La voglio La voglio No Iborra Ma dai E due if Vabbè ma tanto Valgono nulla Iborra Herrera Poteva darmi Almeno due if Con i controcazzi No Musler Mamma mia Tula lan Non vedo Cioè Ma dai Ma cos'è questo Vale 100k A sto pack Bentner Boh Già che abbiamo trovato Bentner Raga è finita Cioè De Santis Questo qua è quello che usa Stormy Sciarami Lì Casco Paletta Mamma mia Conco Walker Forse l'unico che vale Walker Mollo Piatti Muslera De Bruyne Iborra Amsic Herrera E Moreless Vabbè Facciamo così raga Questi due Visto che valgono nulla Li scartiamo Però Walker Lo teniamo Teniamo solo Walker Bo raga Scartiamo Tutto Tanto abbiamo altri 200k Magari facciamo Altri 100k In pack opening Vediamo quali pack Ci sono Da 15.000 Ne apriamo magari due Perché io sapete che quelli da 15.000 Non li apro quasi mai Uff Dos Santos Non male Dos Santos Dos Santos Dos Santos Schifo Vendi C'era Griezmann Ma non l'ho aperto Dai Andiamo alla bass Spostiamo la freccetta Kyuke Ma chi è? The Goodman Kyuke Ma chi sono questi? C'è Griezmann Griezmann in a pack 3 2 1 Cosa bella è che Griezmann Mi fa trovare Sempre crediti Guardate 2000 Più 1000 Più scudo Più un argentone di merda Allora quindi Teniamo questo qua Credit Credit E vendiamo tutto Tanto non vale nulla Vediamo se lo schippiamo Mamma mia Pelatone Howard Pelatone Howard De Gea Non male De Gea Non so quanto vale Ma non penso tanto Perché comunque Stanno abbassando Conserviamolo E scartiamo Tutto Dai caro Griezmann Io te chiedo Dai Su Griezmann Fabregas Fa Aspè Fabregas Non male Dai Fabregas Vediamolo la lista Trasferimenti Non varrà nulla Però Fabregas Mi ispira Però c'è il pelatone Howard 3 2 1 Troviamo Uno del Barca Bartra Ma non vale nulla Questo si è rotto il piede C'è Griezmann C'è Griezmann Griezmann in a pack Lo schippiamo? No lo guardiamo Perché Griezmann ci farà trovare Nulla Fernandao Leo Leo Leonel Stecklenburg Non va Beh ancora Bentner No ragazzi Quando si trova Bentner È finita Potete anche chiudere Cioè potete anche Non far più Pack opening Perché Di solito Quando troviamo Bentner La sfiga è con noi Però noi Abbiamo Griezmann Il nostro Porta fortuna Griezmann Dio santo Dio santo Ancora Ah no Benaglio Anche ho letto Ben Stavo già per sclerare Se era di nuovo Bentner Mi incazzavo Griezmann C'è come Pogba Ancora If Però non vale nulla Che par Oh oh Ah no Valencia Ma basta Sti pipponi If Invia la lista Anzi Dopo discarto Vuol dire che comunque Si sta avvicinando Un pizzico di fortuna Abbiamo altri 30k Griezmann Giroud Ma come si fa ragazzi Come si fa Qua dovete proprio Divulgiare Dovete spaccare il like La mela Ecco Ragazzi Mangiate la mela Perché la mela Pulisce i denti Griezmann Non guardo Nulla Benar fa E la troia Schiena Tu fai Altro che massaggio La schiena Tu fai un'altra cosa Comunque Questo pack Intanto la teniamo La troia Perché comunque Fai massaggi Questo lo teniamo Perché ci aumenta I contratti E nulla Ragazzi Questo pack opening È finito Purtroppo Abbiamo trovato solo I pipponi Andiamo a vedere Se li ho messi in lista Eccoli qua Guardateli 3 pipponi If Mai trovati Cioè Mai Mai una gioia Cioè vabbè Mai una gioia Perché guardate Sti due Però 3 pipponi If Nulla ragazzi Questo video è concluso Spaccate il like Iscrivetevi Perché se no Se ti diamo La pagina di tutto Bella I'm an Albert Charles I'm an Albert Charles